C'è partito il corteo qui da Ria Vitruvio, noi siamo di Villas, un gol di Mario Quistolino, i gombaloni della zona, c'è anche il gombalone del comune di Caeta, c'è il sindaco Sandro Bartolomei, tutti i sindaci della zona. Ciao ciao! E lì sta Erbio, non c'è? Erbio sta a Gaina, non è potuto venire che è arrivata la sorella, è arrivata la sorella. Grazie. Stiamo facendo il sindaco di Pasta, è vero. Stiamo facendo il sindaco di Pasta. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutta forna a questa partita, partecipando al corteo molti ragazzi di Gaeta. Buongiorno a tutti. 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 Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.